Il mio desiderio è di aiutare questa armeria che è sull'ordo del fallimento, però il titolare pensa che sia un patito ad abbigliamento, sì, e non sono ancora riuscito a chiarire il malinteso. Il negozio non naviga in buone acque, ma ce la mettiamo tutta, anche per i beni di Lilietta. Il titolare non è una... Ecco qui il nuovo prodotto arrivato oggi. È pieno di fronzoli qui e lì. Evviva l'erotismo. Sì. E anche oggi sarà un giorno di duro lavoro. Creatore originale. Bam, ecco il titolo. Composizione della serie. Character design. Direttore della fotografia. Colonna sonora. Produttore. Direttore. Produzione. Equipaggiamento completo. Anche se è tutta coperta, le sue curve risaltano ancora di più. È il miracolo dell'erotismo. Questa armatura possiede anche delle ali da demone. Una piccola demonietta, quant'è carina. A me più che una demone. Sembra una dè ascesa in terra. Non dirmi che ha fatto scaturire in te strane emozioni. Io... Voglio contemplarti per sempre. Voglio imprimere la tua figura nella mia mente, sentirti sul mio corpo. Per sempre. Kautz. Per favore, rendimi tuo schiavo. Ho sempre desiderato che mi calpestassi e calciassi con i tuoi piedi divini. Lanciami in aria. Fammi volare. Ti prego, mi devi torturare. Non abbiamo molto tempo. Ti prego, hurry up. Aspetta, calmati. Non posso farlo. È impossibile calmarsi. Non abbiamo molto tempo. Sbrigati, 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 sbrigati! Lynn Shaki Stai bene, sei rimasto ammagliato ed hai perso il controllo Io non ricordo proprio nulla, però, per qualche strano motivo mi fa male il sedere Scusami, colpirti era il modo più divertè...cioè, il modo più efficace per farti riprendere Certa armatura hanno strani poteri, vero? Più un'armatura erotica, e più è pregne di magia Per gli esseri umani senza mana è impossibile resistere ai loro poteri. A te non provocano nessun effetto. Visto che non sono accorto di mana, ne sono immune. Mi sono allenato per vent'anni osservando armature osi. Sei proprio un vero veterano. Io non possiedo molto mana e se dovesse risuccedere non saprei proprio come controllarmi. Ho quello che fa il caso tuo. Eh? Esiste qualcosa del genere? Grazie a questo oggetto sarai immune a qualsiasi effetto. Indossalo. Dammi altro. Va bene. Che mi dice di questo? Anche se è meno efficace. Oh, questo potrei indossarlo. Grazie davvero. Quindi possiedi anche oggetti normali. Cauts? Sì? Mi dispiace di aver perso il controllo. Grazie per esserti... Preoccupata. Ti senti bene? Non esitare a chiedermi aiuto in caso contrario. In tal caso calpestami. A quanto pare non è abbastanza potente. A quanto pare non è abbastanza potente. A quanto pare non è abbastanza potente. Ehi voi! Il prossimo episodio si intitolerà Narden muore, la nuova armeria paradisiaca. Narden non muore! Guardatelo, mi raccomando!